80.000 euro per intensificare la cooperazione e gli scambi culturali e per promuovere le eccellenze di Napoli nei paesi del Mediterraneo. E' questo il contenuto del bando varato dall'assessorato alla cooperazione decentrata che ha lo scopo di promuovere la cooperazione tra comuni e Stato centrale anche attraverso l'Anci Campania e di essere più forti nell'interscambio con le altre istituzioni dei paesi del Mediterraneo. La cooperazione per troppi anni è stata l'attività preziosa ma frammentata di molte associazioni e noi speriamo come comune di offrire delle linee guida, cioè promuovere la cooperazione tra comuni, quindi con l'Anci, promuovere una cooperazione tra comuni e lo Stato centrale affinché si possa essere più forti nell'interscambio con le altre istituzioni dei paesi, ad esempio del Mediterraneo ai quali ci rivolgiamo. Dopo lunghi anni, avendo faticosamente reperito delle risorse, annunziamo la presentazione di un bando per 80.000 euro complessivi di progetti e attività rivolti alle associazioni che vorranno promuovere azioni di cooperazione e di interscambio con gli altri paesi a partire dal Mediterraneo. I progetti dovranno puntare a promuovere le eccellenze del nostro territorio ma l'apertura verso le altre città del bacino si intensificherà anche sul piano politico nelle prossime settimane, visto che il prossimo 4 maggio saranno a Napoli il sindaco di Nablus e quello di Betlemme che col sindaco De Magistris tracceranno le linee del convegno internazionale delle città del Mediterraneo che si svolgerà a Napoli entro la fine del 2014.